Signora Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghi, con questo tra Camere e Senato il Governo Conte ha fatto 13, perché tanti sono i voti di fiducia che sono stati chiesti nel corso della sua seconda edizione di Governo. 13 voti di fiducia richiesti con un atto di forza e di arroganza, ma che al tempo stesso è un atto di debolezza, perché in realtà questa maggioranza si dimostra ogni volta forte qui dentro e inesistente fuori. Qui avete i numeri, al di fuori di qui avete soltanto le contestazioni. E allora vede, signora Presidente, io penso che già un personaggio storico che è finito a Santa Elena giovane, si era posto un quesito che cos'è un Governo e si era dato una risposta. Nulla se non è sostenuto dall'opinione. E questo Governo è nulla, perché non è sostenuto dall'opinione pubblica, ma si limita soltanto a dimostrare la sua arroganza cercando di espropriare di volta in volta il Parlamento, ora sulla legge di bilancio, ora sul decreto mille proroghe, ora su un decreto che tra le tante cose è tra i più delicati, perché attiene alla libertà delle persone, alla possibilità delle intercettazioni estese in modo smisurato, ad una serie cioè di provvedimenti che quantomeno, anche se adottati per decreto, richiedevano un necessario confronto parlamentare. Un confronto parlamentare che non c'è stato, perché, come tutti sanno, la Commissione giustizia ha avuto poche ore di tempo per discutere gli emendamenti, ieri in quest'Aula in due ore si è liquidata la discussione generale, poi vi è stata la chiusura della discussione, la votazione delle pregiudiziali di costituzionalità e la richiesta del voto di fiducia. Insomma, un Parlamento oggi del tutto esautorato dalle proprie funzioni, che anche al Senato aveva vissuto, sempre su questo provvedimento, la posizione del voto di fiducia su un maxi emendamento che anche la tecnica legislativa tradizionalmente boccia. Un Parlamento quindi è una Camera, nella fattispecie, ridotta a poco più di un votificio, un votificio di ordini del giorno, quando gli stessi non siano accolti, magari anche solo come raccomandazione, perché a tanto è stata ridotta la Camera dal Governo Conte II. E allora, vede, a volte vale la pena di ricordare cosa si diceva o cosa certi personaggi dicevano. Non interrogerò la signora Presidente qui in veste di garante, ma sicuramente forse qualcosa alle sue orecchie queste parole diranno. Citiamo, tra virgolette, da quando governa il Partito Sedicente Democratico non fa altro che tenere il Parlamento fuori dalla formazione delle leggi attraverso l'apposizione del voto di fiducia. Luigi Di Maio, 17 maggio 2014. E allora, vedete, colleghi 5 Stelle, ci viene un dubbio che ci porta ad un titolo di una canzone della mannoia. Come si cambia per non morire? Come avete cambiato per tenervi attaccata quella poltrona che in altri tempi dicevate di rifugire? 5 Stelle, quindi, come i piselli, che stando chiusi nel barattolo del potere ne hanno assimilato l'odore fino in fondo. Ma vede, signora Presidente, questa fiducia, tra le fiducia richieste, è ancora la più vergognosa per tre ragioni. In primo luogo, perché dopo un decreto legge non si chiede la fiducia quando c'è in ballo la libertà delle persone. In secondo luogo, perché quando già si ricorre al decreto legge non si ricorre anche alla fiducia quando si va a colpire la dignità dell'avvocatura. E in terzo ma non ultimo luogo, quando un decreto legge già c'è, non si ricorre alla fiducia ben consci che i magistrati hanno già detto che le procure non hanno le specializzazioni pretese da questo decreto legge. E allora questa non è una fiducia che viene richiesta perché chissà quale ostruzionismo fosse in piedi. Questa è una fiducia che viene richiesta solo perché avete deciso di sovvertire i principi dell'ordinamento. Si passa dal cittadino innocente fino a prova contraria al cittadino sempre colpevole fino a prova contraria. Questo è il significato di questa fiducia oggi su un provvedimento così delicato, su un provvedimento che già di per sé violenta e non poco lo Stato di diritto. Uno Stato di diritto è quello che vorrei ricordare quando anche violentato reagisce. Eravamo in questa sede quando dicevamo che la spazza corrotti scritta in quel modo sarebbe stata oggetto di censura della Corte Costituzionale. Avete voluto fare la prova di forza, l'unica che vi riesce qui dentro, cioè quella dei numeri, e la Corte Costituzionale vi ha dato uno schiaffone dicendo che vi sono dei limiti oltre i quali anche il Parlamento non può andare perché non può violentare a suo uso e costume la Carta Costituzionale. Ma non vi è evidentemente bastato. E allora con questo decreto legge passiamo dallo Stato di diritto allo Stato guardone, che però delega a terzi privati questa nuova funzione che si è dato. E sì, perché noi sappiamo bene che le intercettazioni con il Trojan non verranno effettuate se non attraverso società private che, audite avanti il Senato della Repubblica, hanno già detto di non essere in grado di poter garantire quella che è la garanzia prima che andrebbe data, e cioè la possibilità di segretezza dei dati trasmessi. Affidiamo a terzi le intercettazioni di cittadini che, fino a prova contraria, sono e restano al di sopra di ogni sospetto. Ma, in omaggio a quella che è la virulenza della politica del Movimento 5 Stelle, il Partito Democratico pedissequamente acconsente. Siamo all'orecchio di Dionisio in versione ancora meno dignitosa. E sì, perché nessuno lo dice, ma siamo uno dei paesi più spiati al mondo, con 76 intercettazioni ogni 100.000 abitanti a fronte dello 0,5 intercettazione ogni 100.000 abitanti degli Stati Uniti d'America. E vedete, io capisco perfettamente che chi è stato sorteggiato dalla fortuna non riesca a comprendere i doveri che ha una classe politica. Ad esempio, di dare una risposta ad un perché. Perché ogni anno mille persone, ingiustamente, vanno in carcere e non vi fanno alcun effetto. Siamo passati dalla coscienza di Zeno all'incoscienza di Buonafede. E allora vedete, in una situazione di questo tipo, la destra politica italiana, che è destra di legalità, che è destra di ordine, che è destra che non ha tenerezza alcuna verso coloro i quali si sono macchiati di reati, anche e soprattutto dei più abberranti, vi dice che per la salute dei popoli il morbo più temibile è l'arroganza dei governanti. Per la salute degli italiani continua la nostra battaglia per mandarvi a casa.